Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Free News, apriamo questa edizione del nostro Tg con la politica. A Ragusa il sindaco riconfermato nello di Pasquale sta definendo la composizione della nuova giunta. Tra riconferme e novità ecco chi potrebbero essere i sei prescelti. Vediamo. A Ragusa ha vinto il PDL o di Pasquale. Il successo della lista di Pasquale sindaco risultata la prima votata ha cambiato gli equilibri all'interno della coalizione di centrodestra. Equilibri che ad effetto domino hanno coinvolto anche la composizione della giunta. Infatti il sindaco riconfermato nello di Pasquale sta definendo la composizione della nuova squadra assessoriale insieme alle forze della coalizione. La giunta sarà formata da sei elementi e non più da dieci, così come prevede la nuova legge regionale. Sicuri riconfermati sono Giovanni Cosentini dei Popolari per l'Italia di Domani e Francesco Barone del PDL, Aria Leontini. Tra i possibili nomi nuovi ecco chi potrebbe far parte della nuova squadra. Innanzitutto Mario Addario, ingegnere, facente parte dell'area di riferimento del deputato nazionale Nino Minardo. In rappresentanza della lista civica nello di Pasquale sindaco ci saranno quasi certamente Venerando Suizzo, primo degli eletti della lista, e Maria Teresa Tumino. Gli altri due posti dovrebbero toccare uno all'Udc e precisamente a Sonia Migliore, che consente così l'ingresso al Palazzo dell'Aquila di Gianluca Morando. Migliore è stata la più votata della lista e per questo motivo entra a far parte della nuova giunta, anche se in questo modo, in consiglio, non resterebbe più nessuno a garantire la Migliore, che come si ricorda non è nata democristiana ma socialista. Ed intanto già i primi in mal di pancia con Rocco Bitetti, Michele Tasca e Fabrizio Ilardo, che rimarrebbero fuori dai giochi. Proprio Ilardo, ex capogruppo al consiglio del PDL, che è il terzo dei non eletti, potrebbe non trovare posto in consiglio neanche in futuro. E su piatto c'è anche la presidenza del consiglio comunale, che dovrebbe andare anche alla lista di Pasquale sindaco con il consigliere Pino Di Noia, preferito a Giovanni Di Mauro per la maggiore esperienza. Di Noia è infatti al suo terzo mandato, mentre Di Mauro è alla prima esperienza in consiglio comunale. Ed intanto già si pensa al dopo di Pasquale, perché in caso di elezioni regionali il rieletto primo cittadino potrebbe candidarsi per uno scranno all'Ars e portare l'azzeramento del consiglio comunale. Restiamo in tema. Vittoria tengono banco in queste ore i casi di Italia e dei Valori e di Fabrizio Comisi. Nel centro-destra le dimissioni dalla giunta di Comisi sembrano essere subito rientrate, mentre nel centro-sinistra i vertici regionali di Italia e dei Valori hanno invitato il proprio esponente ad uscire dalla giunta a causa della presenza dell'Udc. E a questo proposito i dirigenti locali hanno annunciato azioni eclatanti. Sentiamo. A Vittoria in queste ore le due coalizioni che si presenteranno al ballottaggio stanno vivendo momenti particolari. Nel centro-destra, che sostiene Carmelo Incardona, si è parlato in queste ore delle dimissioni dalla giunta da parte di Fabrizio Comisi, però subito rientrate. Comisi pare non aver gradito l'apparentamento con Francesco Aiello ed il suo movimento, ma come detto tutto sembra essere rientrato tra i ranghi. Ma anche il centro-sinistra deve fare i conti con un caso scoppiato all'interno di Italia e dei Valori. I vertici regionali di Italia e dei Valori hanno invitato il proprio esponente ad uscire dalla giunta a causa della presenza dell'Udc, ma i dirigenti locali non ci stanno ed hanno annunciato azioni eclatanti. Intanto, i due aspiranti alla poltrona di primo cittadino hanno presentato le rispettive squadre assessoriali. Carmelo Incardona ha scelto Fabrizio Comisi, Giovanni Moscato e Valeria Sansone, nominati in prima battuta, e Nello Dieli, Nino Nicosia e Franca Campanella, nominati sabato prima della presentazione al segretario generale del Comune. Naturalmente, la notizia che ha riscaldato l'ambiente parino è stato l'apparentamento tecnico con Francesco Aiello ed il suo movimento, che però non sembra aver chiesto in cambio posti di governo. A dare il proprio placet all'accordo anche il leader di Forza del Sud, l'onorevole Gianfranco Miciche. Ed anche Giuseppe Nicosia sabato ha presentato la squadra assessoriale in prima battuta. Erano stati nominati Piero Gurrieri, Giuseppe Malignaggi e Luigi D'Amato. In seconda battuta, il primo cittadino uscente ha nominato Salvatore Garofalo, che assumerà probabilmente la carica di vicesindaco Mario Mascolino e Rosario Lomonaco dell'Udc, che ha deciso di apparentarsi con Nicosia, dopo che l'Assemblea ha approvato quasi all'unanimità la scelta di andare con il sindaco scente piuttosto che con l'altro candidato in Cardona. E questa mattina a Vittoria, nella sede del PDL, si è svolto un incontro al quale ha preso parte anche il deputato nazionale, Nino Minardo. Durante la riunione si è fatta l'analisi del voto del partito e si è discusso anche della paventata uscita dalla Giunta da parte di Fabrizio Comisi. Vediamo. Il PDL di Vittoria analizza il risultato ottenuto nella competizione elettorale. Questa mattina, nella sede di Viecavuri, il deputato nazionale Nino Minardo ha incontrato gli iscritti del partito e di consigliere eletti per fare il punto dopo il voto. Sul tavolo della discussione anche il caso Fabrizio Comisi, che secondo alcune voci avrebbe deciso di dimettersi dalla Giunta a causa dell'apparentamento fatto con Francesco Aiello. Ma l'ipotesi di dimissioni da parte di Comisi ha trovato una secca smentita proprio da Nino Minardo. Ma intanto di fronte a questa paventata notizia io posso serenamente dire che appare priva di fondamento tant'è che ho ricevuto conferma proprio pochi minuti fa che è stata smentita dallo stesso Comisi che invece continuerà a far parte della squadra di Carmelo in Cardona. Minardo ha anche parlato di Ragusa dove nelle prossime ore, riconfermato Nello di Pasquale, dovrebbe annunciare la nuova squadra assessoriale che vedrà alcune conferme ed alcune novità. Si tratta di una Giunta molto competente e competitiva, è una Giunta che vede alcune riconferme tra cui quella dell'assessore Ciccio Barone per il PDL, di Giovanni Cosentini per il PID. Il PDL poi ha inserito anche il nome di un tecnico che è l'ingegnere Mario Addario che da oggi inizia una nuova esperienza in politica dopo essersi affermato in campo professionale. Quindi ci sono tutte le condizioni per ricominciare un lavoro lasciato poche settimane fa e continuare in questa azione di crescita della città. Passiamo adesso alla cronaca e torniamo a parlare dell'emergenza sbarchi nelle coste eblei. I migranti giunti a Pozzallo in 932 nella notte tra il 30 e il 31 maggio scorsi sono stati tutti identificati. 22 di loro sono già stati rimpatriati e per i 9 scafisti che sono già stati interrogati dagli inquirenti adesso si attende la decisione del GIP. Hanno di fatto tutti negato le contestazioni sostenendo di essere invece clandestini come gli altri. Contro di loro però pendono le testimonianze di molti tra i migranti che erano a bordo del barcone. E continuiamo a parlare di cronaca. La polizia municipale di Vittoria ha ritrovato il mezzo meccanico rubato all'amio. Si tratta di una mini-pala Bobcat che nella notte tra sabato e domenica era stata sottratta dal centro comunale di raccolta gestito dall'amio. I ladri si erano introdotti nel capannone del centro forzando nel cancello d'ingresso. Il mezzo ritrovato nei pressi di una proprietà confiscata alla mafia è stato restituito all'azienda municipale per religione urbana che ne aveva denunciato il furto. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. Tra poco.